è ufficiale meritaremi sarà un nuovo giocatore dell'inter le firma liberano dopo la coppa l'asio per giugno ovviamente l'attaccante è per giugno come ha imparato fabrizio mano sui suoi profili social colpo di mercato da 10 vedete ma sì ma oggi attaccante adesso ho capito però se l'entrata dell'inter è chiuso ci possiamo fare poco però già il fatto che barotta pensa che la prossima stagione vuol dire che vuoi costruire un'altra scuola ancora più vincente di quella di adesso un cameretta ribida attacco è tanta roba un attaccante fisico prolifico che ha già una catena di gol che sa gestire bene la palla sa giocare con i compagni è un colpo che ci sta ci sta tutto io spero che arrivi anche pietro zelinski io sono innamorato pazzo di questo giocatore il polacco è un giocatore che ho sempre amato sin ai tempi dell'empoli ecco sempre il solito di vedere all'inter e tanti lo sanno ma comunque già che arriva a Tremi per me è un ottimo colpo anche perché l'anno prossimo Sanchez al 100% varia a renda ufficio resterà ma come quarta scelta molto probabilmente avresti un Tremi che si completa con Tuab anche se Tuab è più tecnico più veloce Tremi molto più un alazzeco lento ma che sa insegnare calcio sono contento sono contento mi l'ha beffato visto che l'anno scorso lo volevo noi l'estate mi l'ha beffato si può dire detto ciò direvo io nei commenti quando ne pensate ben itaemi sarà un nuovo giocatore dell'inter i contatti e dei figli sono già pronte e si spera usato l'ufficialità ben itaemi lalalala ben itaemi lalalala alla prossima grazie